Ci troviamo nel cavo segreto dove sono contenuti tutti i dolciumi che verranno lanciati anche nelle prossime due domeniche del Carnivale, l'8 e il 15, sulla folla appunto dai carri allegorici. Luciano, ma quanti quintali di dolciumi ci sono qua? Allora, qui ne vedete esattamente 140 quintali. C'è il getto già steso per domenica 8, ma è già arrivato lo stoccaggio per domenica 15. Veramente la Perugina ci ha fatto una grande, grande sorpresa perché in questo secondo carico ci ha inviato un carico tutto, tutto, tutto di cioccolata. Ce n'è veramente un'invasione. È vero, vediamo anche barrette, baci e di tutto di più. Vogliamo rovesciare così una cassa? Vediamo cosa c'è dentro. Eccoli qua, però, però. Penso che non ne manca. Vedete i baci, i caramelle, veramente poche. Questo giro. Baci a volontà, stick e tante tante confezioni. Un regalo come ogni anno, grazie alla Perugina, che faremo voi domenica 8 lungo Via Le Gramsci. Non mancate. Invitiamo anche a comprare il prendigetto per chi non l'aveste già fatto. Munitivi di prendigetto perché degli amici mi hanno detto che addirittura qualcuno ha preso più di 5 kg di cioccolata domenica. Tra caramelle e cioccolata, quindi vuol dire che funziona. È un cono veramente delizioso che potete tranquillamente riempire con i deliziosi cioccolatini della Perugina. Dunque ci vediamo domenica. Domenica, bello da vedere e dolce da gustare. Buon carnevale a tutti. Grazie. Grazie.